Sono Vito Mastrangelo, ho 55 anni, di cui 40 passati per il carnevale e sono un maestro cartapestale. Sono Paolo Mastrangelo, ho 26 anni e sono un artigiano della cartapesta. Noi abbiamo iniziato con le maschere di carattere. È l'inizio. L'inizio è di un lungo cammino. Sono carri in miniatura che i ragazzi alle prime armi si cimentano a costruire. Il consiglio che vi do ai futuri cartapestali è, più di tutto, credere negli anziani. Rubare le esperienze che hanno. Che altro, niente. È una passione che è diventata un lavoro. Quindi cosa c'è di più bello? Grazie a tutti.